Ciao ragazzoni belli, ben ritrovati all'interno di questo nuovo video di Fall Guys Belli miei, dopo il video della vittoria, dopo il video delle impostazioni, come facevo a non portarvi un tutorial, anzi una reaction ai pro player di Fall Guys Contenuto che su Stumble Guys ha funzionato molto, vi è piaciuto un sacco e quindi ho deciso di spostare anche su Fall Guys Oggi andiamo a reagire a Mr. Keroro, uno youtuber nonché pro player di Fall Guys che ha ottenuto ben un milione di iscritti su YouTube E' uno dei player più forti al mondo, voi però mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanella ROD16K, non potete mancare alla festa Quindi iscrizione, attivazione della campanella, seguitemi su Instagram e TikTok e se volete potete anche abbonarvi con 99 centesimi qua su YouTube o gratis su Amazon Prime Attraverso la piattaforma di Twitch Ora, reaction al iPad, andiamo subito a fare la reazione alla partita che ha permesso a Mr. Keroro di essere considerato uno dei player più forti addirittura d'Europa Quindi tenetevi pronti ragazzi che ce ne saranno delle belle, io vi dico, state belli 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 caldi perché qua sarà bollente come situazione Vedete subito la mappa che stiamo andando per vedere, la mappa in questione e lo sapete penso tutti La nuova finale che è stata aggiunta con il nuovo aggiornamento perché vi ricordo che Fall Guys ha ottenuto vari aggiornamenti e l'ultimo di quelli importanti è stato proprio questo Quindi se vi può interessare ragazzi una piccola cosina volevo dirvi, era questa qua appunto il fatto che comunque si parla di nuove mappe che spaccano alla grande Ecco, spaccano veramente alla grande Quindi direi subito di non perdere troppo tempo nella reaction e di andare subito a vedere il buon Mr. Keroro Ok, il buon Mr. Keroro E dagli, dagli è tutta, dagli è tutta Allora, mettiamo questo qua così In modo da connettere il tutto E via Campiones de Europa en coso Allora, mappa la nuova finale Ragazzi penso che voi tutti la conosciate Ormai, e qua Mr. Keroro fa veramente lo show Io ve lo dico E' pericolosissimo Mr. Keroro perché fa dei saltelli che sono Veramente sovrumani E soprattutto ha delle tecniche che io proprio non conosco Vedete come lui prende la palla e soprattutto cerca molto, da quel che ho visto Il grab, che è una cosa che all'inizio è un po' complicatella a fare Soprattutto se siete nuovi all'interno dei Fall Guys Sapete benissimo che è molto complicato il grabbare Vedete come lui cerca sempre il grab E dato che su sto livello premia chi cade per terra Lui cerca in qualche modo di dar fastidio agli altri In modo tale da farli cadere per terra Nonostante le varie palle che si è preso Perché purtroppo questa mappa qua Consiste anche nel prendersi effettivamente delle botte Lui riesce comunque a mantenere sempre una certa mentalità E vedete come va a grabbare l'avversario per fare l'effetto bomba E tutti quelli che stanno cercando di farlo cadere stanno cadendo a loro volta Qua addirittura ha provato un tiro da maestro Quasi ben riuscito devo dire Quindi GG al buon Mr. Keroro Vedete come se la cilla alla grande E qua poi fa la giocata finale Con l'effettiva L'effettiva win L'effettiva win dai Vabbè le grandi pubblicità della team Che noi ringraziamo E vedete un po' qua Vedete un po' qua come lui riesce poi magicamente Una volta che cade Mr. Keroro L'altro compagno di squadra Se la gioca veramente alla grande E vedete come veramente Riescono a fare una cosa assurda Vi ricordo che questo qua è il team Che ha partecipato al Twitch Rivals Non so se l'aveva qualcuno seguito su Twitch E hanno appunto vinto Sono stati i vincitori del torneo Stiamo parlando di player veramente ragazzi Belli 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 potenti Devo dire che sta mappa qua 2000 vittorie e robe Ci sta L'unica cosa che secondo me Il problema di questa mappa È il fatto che veramente Non si capisce bene molte cose Quindi è un attimo da rivedere Almeno per quanto mi riguarda Un pochino da rivedere c'è Qua fanno il grab Fanno la tecnica del grab E naturalmente gli avversari Gli avversari cadranno Perché appunto tenendo col grab Senza nessun tipo di problema Questa qua è la tecnica di Mr. Keroro Vedete qua 3, 2, 1 Pam Cade e se la porta a casa Il buon ragazzone Stiamo parlando di player ragazzi Veramente assurdi Questo qua è Rodri Che fa parte del team di Keroro Stiamo parlando veramente di cose potenti Ragazzi io ve lo dico Di cose veramente potenti Qua hexagon Mappa dove secondo me Si può riuscire a gestire greggiamente C'è anche comunque Tutta la mappa C'è anche su StumbleGuides Che è la versione mobile Se ve la siete persa La trovate nel mio canale E la tecnica principale È quella di prendere più hexagoni possibili Ma l'importante È creare una sorta di buco Per coloro che cadono dall'alto E farli cadere Lui ha veramente E' impavido quasi Cioè riesce a gestirla Egregiamente Riesce a sacrificarsi E a riuscire a rompere Esattamente gli esagoni Al momento giusto Vedete come riesce a gestire Egregiamente Proprio tutte le Tutte le idee E qui Devo dire che se la saltella Veramente Sembra tutto fatto apposta In realtà Non è fatto Cioè è fatto apposta Ma è Sembra quasi come se fosse Una sorta di robot Qua purtroppo cade Ma effettivamente Non erano finiti gli esagoni Quindi Non poteva far più di tanto Se andiamo nella parte finale Notiamo com'è Il buon mister Che è loro E ancora Bello bello alto Rispetto agli altri E gestisce molto egregiamente Purtroppo poi qua Cade Ma riesce a prendersi Una fetta di Di mappa Che dà molto fastidio Agli avversari Qua addirittura Fa un uno contro uno Con l'avversario Cerca di spingerlo sotto Ma devo dire Che la gestisce Molto 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 egregiamente Qua ormai lui si sacrifica Perché ha già capito Che ormai è finita Ma riesce a fare un salto Che veramente Da mille E una notte Neanche so minimamente Come abbia fatto Ma cade mister Che eroro Purtroppo qua Ma avete visto Comunque stiamo parlando Di gente che è arrivata A seconda Ma se la porta a casa Il buon Antorex Stiamo parlando comunque Di player veramente Merdamente forti Poi c'è il buon Jump showdown Ok Jump showdown Questa mappa qua Dove ci sono queste eliche Che girano Dove viene premiata Un po' la qualità Nel salto E soprattutto nel grab E' una tecnica Che molti di voi Forse non conoscono Ma la tecnica del grab E' molto 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 Utilizzata dai pro player Ed è quella che poi Fa la differenza Naturalmente Il problema principale Sta nel fatto Che questa mappa qua Ha questa ventola maledetta Che dà molto fastidio Ai player Infatti la tecnica E' quella di stare Più vicini possibili In modo tale da non Avere il problema Della caduta Però Naturalmente Stiamo capendo Il fatto che Non è che sia Così semplice Saper gestire il tutto Qua comunque Keroro La gestisce Egregiamente Fa addirittura Il salto dall'altra parte Quindi stiamo parlando Veramente Di player che hanno Le idee non chiare Ma quello che viene dopo E sono proprio curioso Di vedere come si conclude Poi la partita In sé per sé Il nostro Monkeroro E' sempre alive Cerca sempre di gestirla Abbastanza egregiamente Qua fa un salto Perché vede che comunque La situazione Non era delle migliori E' un uno contro uno E l'uno contro uno Keroro lo risolve Senza nessun tipo di problema Perché guardate un poco da fa Si butta dall'avversario E adesso cercherà il grab Probabilmente Classica tecnica Classica tecnica Della Keroro E qua riesce veramente Nel chill A grabbar l'avversario Che arriva alla ventola E viene catapultato Giù Il video di oggi termina qua Spero che vi siete divertiti Spero che il video vi sia piaciuto Reaction Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti